Oggi un'importantissima operazione da parte della Procura rispetto ad un sistema che avete chiamato sistema Salamanca. Era un sistema che riguardava il cimitero, gli appalti, le società di mutuo soccorso. Che indagine avete fatto? Come avete lavorato? L'indagine che si è articolata negli anni e quindi dal 2012 fino all'anno scorso ha preso le mosse dalle dichiarazioni di un imprenditore che ha fornito i primi elementi. I primi elementi di questo sistema che poi secondo gli elementi di prova che abbiamo raccolto riguardavano una gestione privatistica di funzioni pubbliche è stato poi riscontrato secondo quella che è la nostra ricostruzione da dichiarazioni di collaboratori di giustizia che pure avevano notizie essendo inseriti in questo contesto cittadino della situazione, attività di intercettazione telefonica, riscontri documentali. L'indagine della Guardia di Finanza che riguardava specificamente il settore degli appalti si è poi intersecata con l'attività di indagine dei carabinieri che prendendo le mosse dalla situazione del cimitero degli angeli ha portato a verificare che anche la situazione dei loculi al cimitero venisse gestita in realtà tenendo più conto dell'interesse privato che non dell'interesse pubblico. Proprio perché attraverso una rete di relazioni costruita nel tempo l'interesse pubblico veniva messo da parte e veniva invece realizzato l'interesse privato. Questa secondo l'ipotesi investigativa gli elementi di prova li abbiamo messi a disposizione del GIP e il GIP ha ricostruito nell'ordinanza dando atto del lavoro della procura a questo discorso di sistema, perché è ripetuto nel tempo. Noi abbiamo fotografato situazioni che vanno dal 2011 fino al 2013. Questo sistema consisteva, in un'ultima analisi, nel favorire determinate società che in parte erano amiche e in parte erano direttamente riconducibili al Salamanca. Tutti quei soggetti che oggi sono ai domiciliari risultano aver avuto un ruolo attivo o essere dei beneficiari di questo sistema. Noi abbiamo semplicemente constatato che le società di mutuo soccorso per ottenere l'autorizzazione e la concessione all'esercizio di queste sepolture che gli sono state concesse, ha pagato i relativi oneri al Comune. Quindi gli è stato dato troppo, ma per quello che gli è stato dato loro hanno pagato quanto dovuto al Comune. Il Comune questo denaro lo ha incamerato, lo ha anche gestito, non lo ha messo a bilancio con l'indicazione della sua provenienza.